A Cristian che abbiamo avuto il piacere di avere poco fa sopra in canonica, abbiamo parlato un pochettino e ci ha dato stasera tanta gioia averti qui con noi e vogliamo darti un riconoscimento della tua presenza questa sera qui in mezzo a noi è una tarca semplice però che dice tanto c'è la nostra gratitudine a te per quello che fai a livello nazionale e ci rende orgoglioso di essere siciliani quindi bravo Cristian, continua così se la mamma sale sul palco, accompagnata dalla mamma, gli vorremmo fare un omaggio floreale ecco la signora se qualche assessore miglia i fiori grazie signora questa è tua Cristian grazie ancora per essere qui c'è il vicepresidente che ti vuole salutare anche lui io volevo fare, Piero scusami volevo fare un ultimo minuto che volevo rubare volevo ringraziare innanzitutto tutti per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario per essere stati qui presenti in mezzo a noi vi voglio fare un annuncio stasera come avevate visto nei manifesti c'era l'estrazione del sorteggio della lotteria locale non rimandiamo alla settimana prossima, domenica prossima perché i tempi tecnici non ci hanno consentito di organizzarci e la serata che è andata persa sabato quasi sicuramente la faremo il 30 quindi mi pare è un sabato quindi a chiusura dell'anno Mariano quindi ripeteremo la serata che abbiamo potuto fare ieri sera quindi siete di nuovo tutti invitati per trascorrere qua a Ventimiglia un'altra bella serata l'invito di padre Filippo a chi è che ne sente la necessità di recarsi nella chiesa del Santissimo perché come ho detto oggi stiamo facendo una raccolta per la famiglia Viviani come sapete che fu andata distrutta la casa che ha morto il bambino quindi date segno della vostra generosità e recatevi nella cappella grazie ancora a tutti grazie Cristiane per essere qui a Ventimiglia e passo la parola a Piero Alongi bravo Piero ma Cristiane a scuola domani ci vai? c'è una domanda vai a scuola domani eh tardi allora vattene io starò un po' con voi però ti posso garantire che da Palermo a Ventimiglia dormite in mattina eh ma bravo ricordiamo che è piccidico fortunatamente no no io ne approfitto invece questa sera perché Cristiane il 3 settembre che è la provincia in Penta il 143 anniversario avremmo dovuto consegnare un riconoscimento della provincia non è stato possibile perché era impegnato fuori e glielo consigliamo questa sera ufficialmente quindi perché la provincia lo ha insegnato dalla benemerenza come cittadino onorario e rappresentato della provincia regionale di Palermo grazie grazie perché è il nostro fiorallo spiega e le campane sono state messe a posta bravo ora tocca poi a te a te tirare qualche fumarone raccogliamo la frutta ok va bene io adesso vado e vi ringrazio a tutti e grazie sempre un forte abbraccio a tutti voi grazie 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 grazie